A Termoli sono stati presentati questa mattina i dati del monitoraggio delle acque realizzato lungo le coste dell'Adriatico da Goletta Verde, risultati fortemente inquinati alla foce del Sinarca e il canale della rotatoria del lungomare nord della cittadina. Dei tre punti selezionati per il monitoraggio delle acque in Molise da Goletta Verde e l'Equipe di Lega Ambiente, due sono risultati con valori inquinanti ben oltre i limiti di legge. Si tratta della foce del fiume Sinarca e del canale presso la rotatoria del lungomare Colombo a Termoli. Il terzo sito analizzato, risultato con valori entro i limiti di legge, è la foce del fiume Trigno a Marina di Montenero di Bisaccia. Delle fotografie istantanee che evidenziano criticità presenti in alcuni casi da anni e per cui sarebbe necessario che le amministrazioni si mettessero in rete confrontandosi per migliorare la depurazione e la qualità dell'acqua dei fiumi e dei canali che arrivano in mare. I fattori che minacciano la qualità e la salute delle acque vanno dunque individuati e risolti. A Termoli una conferenza stampa in cui sono stati illustrati tutti i dati. Prima non bisogna abbassare la guardia, soprattutto nella parte di Termoli dove purtroppo sia la foce Sinarca, dove scaricano purtroppo tanti comuni della collina molisana, è risultata fortemente inquinata. È un grave risultato che a noi ci fa riflettere e fa capire che in realtà il problema non è solo quello di Termoli ma riguarda tutti i comuni della parte collinare. I comuni hanno una grande responsabilità quella della tutela dei depuratori, della messa in atto dei depuratori, affinché questi scaricano nel miglior modo possibile entro i limiti. Ovviamente non è solo colpa loro ma anche dei tanti cittadini che purtroppo scaricano direttamente a fiume e questo causa dei seri problemi di inquinamento nei nostri fiumi, poi a partire le nostre foci e addirittura fino a sfociare il nostro mare.